Giovedì, 17 maggio 2018 15.55 da Ludo-92 inserisci un commento, finalmente siamo arrivati alla fine di questa nuova stagione del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne E, stato un lungo ed intenso percorso per tutti i tronisti, Paolo Crivellina Scelto Angela Caloisi, Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum e Nilou Faradati ha scelto Giordano Mazzocchi Adesso manca solo la scelta di Sara Affitella Secondo voi chi sceglierà tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, è lei prossima registrazione del trono classico Cisara Aggiornamento, la registrazione di martedì stata annullata e non si sa quando si registra Vedremo sicuramente come sarà andata la villa tra Lorenzo, Sara e Luigi Mariano Catanzaro ci sarà in studio o ha deciso di Abbandonare il trono Potrebbe anche essere che la scelta di Sara verrà registrata in studio col pubblico martedì Leggia Grazie Grazie